Buonasera, buonasera a tutti, grazie, grazie mille, buonasera, buonasera, grazie davvero, eh. Grazie mille Stefano per essere qua, grazie davvero, eh, grazie mille. Maria, lo vedete che ogni volta che ti inclini succede lo stesso, devi smetterla. No, in realtà questa è una prova, sto esercitandomi per stasera tutto è possibile, così presentiamo insieme la stanza inclinata, no? Benissimo, benissimo. Resto in equilibrio così, che dici? No, adesso... Un po' più dritta. Eh, ecco. Adesso si sta, sono più sciolta. Cara Fatima Trotta, benvenuti a Made in Sud. Non ci credo, l'ha capito, siamo a Made in Sud, brava Maria. La Raya ha grandi progetti per te, reggi questa corda. Grandi progetti? Sì, sì, che devo fare? Gira un po', gira, gira, gira. Sarà un nuovo formato. La Raya ha veramente tanti progetti per te, eh. Che potete fare? Voglio tenerti praticamente legata a sé. Ma non credo che volesse dire questo, Maria. Vuole tenerti qua, però in silenzio. Vai pure qua, vicino a questa scrivania. Maria! Dovresti restare in silenzio. Io l'avrei fatta uscire, l'avrei rottamato anche lei, mi hanno detto che non può uscire. Però, insomma, non parli mai come lui, stai zitta, va bene? Ma sono una conduttrice! Guarda un po' come si conduce, no? Prendi lezioni perché quest'anno Made in Sud lo conduciamo io e Stefano De Martino, no? Ma è l'ultima puntata. Come lo vogliamo chiamare? Made in Sud Celebrities? No! Made in Sud Over? Made in Sud che vale, come vuoi chiamarlo? Ma anche solo Made in Sud, lasciamo Made in Sud. Io per condurlo per bene ho anche imparato il vostro dialetto, sai? Ah sì, mi fai sentire qualcosa. Bene. Iamme bello, facimmi ambresso, non me rompere o... No, 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 questo non si può dire, non si può dire. Bello ancora non si può dire perché metto ordine e diventerà tutto più bello. Bellissimo. Biagioizzo c'è ancora qua? C'è ancora, c'è ancora. Facci volentieri. Eccomi Maria, sono liscio per te. Ci dobbiamo diventere, Maria. Ci dobbiamo diventere, Maria. Faccimi un spettacolo, sei gerato, sei gerato. Io non ti capisco, sei troppo napoletano, capito? Nel mio Made in Sud. Ho visto che tu hai imparato in napoletano, perciò. Sì, però te puoi restare nel mio Made in Sud, ma devi imparare qualcosa di nordico. E cioè? Te puoi restare. Questo? Devo imparare in te. Vediamo se te la capo. È un po' difficile, eh? Proviamo, dai. Oh mia bella madunina, che te brilli in te lontà, tu t'adore pisinina, che ti domini in Milà. Uè, testina, bravo, eh? Sai che vali? Grazie. Vali, vali, vali. Grazie, Maria, sì. Complimenti. Ma non fa più dolci collo, non fa dolci. Allora, te Stefano, nelle passate edizioni di Amici hai parlato con tanti ballerini professionisti. Tantissimi, sì. In questa edizione condotta da Medi in Sud faremo tanti passi a due, io e te, te la senti? A due, noi siamo in tre, io mi sposto. Se me la sento, sì, tu te la senti, non lo so. Che dici, proviamo? Proviamo, proviamo, proviamo. Che dici? Non fa la cosa. Eh, ma... Piano, 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 piano. Maria, Maria, aspetta. Siamo da Medi in Sud. Un attimo. Eh, mi sono incliccata. Eh, non solo. Ascendio, Maria, ascendio. Allora, scusate, tutte e due. Tu e Nino D'Angelo, che volete fare? Maria, sentiamo, lascia stare del mattino, facciamola, facciamola, facciamola una trasmissioniette, facciamo una trasmissione di classe. Sentite un po' tesoro che non mi appartiene, perché mi piaci te, io la farei, sai, mi piace molto, complimenti, eh. Ora la facciamo, vediamo, sono piena alle 5. Grazie a tutti.